5 maggio 2012, siamo qui dal campus universitario di Savona per un'importantissima occasione, il primo Open Space Technology, il primo incontro tra pubblica amministrazione e cittadini dove potranno dire la loro al di là del voto di rappresentanza. Voluto e organizzato dall'attuale assessore al decentramento Sergio Lugaro, spazi verdi, piste ciclabili, censimento delle case sfitte, accesso al mare ed orti urbani, hanno animato l'intera giornata, concedendo la grande opportunità a Savona di far sentir la propria voce. Dai comitati di quartiere al dialogo diretto, svolta nella comunicazione quella che oggi si è tenuta al campus universitario di Savona, tra pubblica amministrazione e cittadinanza. In un clima costruttivo e familiare si è discusso, costruito, ragionato, dando la possibilità alla popolazione di esporre i propri problemi, sfruttando l'occasione data dal Comune, organizzatore dell'evento, di avere un filo diretto con il Consiglio Comunale, che provvederà in seconda battuta a cercare soluzione ai problemi immersi. Soddisfazione da ambo le parti e risposta positiva da parte della gente, decisa a partecipare attivamente al cambiamento di marcia che sembra essersi attivato. E dal primo open space di Savona è tutto.